ciao a tutti e bentornati nel mio canale in questo tutorial di oggi come avete visto nella foto di presentazione lavoreremo insieme dei semplicissimi manicotti che sono questi qua un pochino più alti sulla parte del braccio con la chiusura per il pollice senza le dita nella parte poi laterale sono andata ad applicare queste decorazioni adesso vi mostrerò quali sono gli strass che ho scelto di utilizzare per queste per questa particolarità alla lavorazione e lavoreremo veramente una cosa molto semplice ai ferri lineari quindi faremo tutto con i ferri dritti non c'è bisogno dell'utilizzo dei circolari per chi non avesse la possibilità di utilizzare i mini circolari che sono quelli indicati per le lavorazioni a cerchio molto piccole di conseguenza ho fatto apposta il tutorial con i lineari per farvi vedere quanto è semplice a parte la fascia che la lavoreremo chiaramente a lineare quindi a dritto poi andremo a cucirla lavorare anche questi guantini che vi faccio vedere più nel dettaglio come sono stati lavorati facendo poi la ripresa delle maglie per il pollice e la chiusura qua in tondo per la parte della mano è davvero una cosa molto veloce si realizza con pochissimi grammi di filato io avevo disponibili 100 grammi del filato monnalisa in microfibra adesso vedrete subito la presentazione questi sono quelli che mi sono rimasti e anche avevo 50 grammi in più rispetto a questi della microfibra baci rubati ho scelto di realizzare sia una fascia da bambina che questa l'ho realizzata per mia figlia con questa microfibra un pochino più sottile ma veramente morbidissima molto calda e si lavora davvero benissimo anche ferri con la quale ho realizzato anche il maglioncino princesse che qua lo sto indossando non so chi ha visto il tutorial vi lascio magari il link di riferimento al video del maglioncino se siete interessate con i grammi rimasti ho lavorato queste fasce per capelli e anche questi mezzi manicotti gli strass che ho scelto di utilizzare sono delle fettuccine di strass che si possono tagliare le uso spesso nei miei tutorial chi mi segue lo sa io mi piacciono molto ecco come decorazioni finali danno particolarità e luce alle lavorazioni sono delle bobine di strass che si possono regolare andare a tagliare e con ago e filo fra uno strass e l'altro c'è la possibilità di andare ad applicarli cucendoli facendo una semplicissima cucitura infatti io ho scelto di andare a cucirli con un filo per cucito tono su tono nella tonalità bordeaux e con un filo tono su tono panna per la tonalità del bianco e sono andata ad applicarli uno ad uno in questo modo molto semplice lungo la cucitura del guanto quindi cuoceremo il guanto nella parte laterale e poi volendo è possibile andare a fare queste decorazioni se non vi piacessero gli strass non sono certo obbligatori la stessa cosa l'ho ripetuta qua sulla fascia andando a cuscirli proprio uno ad uno nella parte qua dove hanno la possibilità di essere agganciati qua c'è un forellino per andare a fare una cucitura si possono fare anche altre decorazioni questo va a gusto a fantasia e creatività io oggi in questo tutorial vi mostro davvero la velocità e la semplicità di questi progetti i punti impiegati per questa lavorazione sono davvero semplicissimi lavoreremo semplicemente una maglia costano a uno per dare questa elasticità e morbidezza al filato adesso vi mostrerò chiaramente anche tutti gli accessori che servono per questa lavorazione e per la parte dei guanti invece dopo aver lavorato la costa una uno che è davvero semplice proprio un tutorial anche per principianti lavoreremo tutto il resto a maglia rasata per quanto riguarda la fascia della bambina io non ho fatto il tutorial di questa però ho utilizzato lo stesso punto a costa una uno la microfibra è un pochino più sottile quella della questa qua alla base rubati quindi è sempre stata lavorata con lo stesso numero di ferri che adesso vi indicherò per questo tutorial però vedete il punto rimane qua molto più più fitto perché è un pochino più spessa come filato questo è un pochino più sottile quindi di conseguenza rimane molto molto più elastico è sempre stata lavorata a costa una uno sempre con lo stesso intreccio gli strassi l'ho applicati solamente qua nella parte alta del lavoro e visto che si tratta di una fascia per bambina ho scelto di fare poi tutto un bordino con delle maglie basse ad uncinetto per non far perdere l'elasticità alla fascia per quanto riguarda le misure invece io vi mostrerò come prendere i centimetri la circonferenza questa da bambina è stata lavorata su 49 centimetri perché è molto elastica di conseguenza non volevo che cadesse poi per una circonferenza di 51 52 ho lavorato qualche centimetro meno la stessa cosa ho fatto per quella da donna che è questa per una circonferenza di 54 ho lavorato su 50 centimetri perché vedete poi è elastica e di conseguenza non volevo che scendesse per i guanti ho preso la misura del mio polso io ho un polso abbastanza piccolino però la lavorazione rimane comunque elastica sia nella parte qua perché lavoreremo il punto elastico accostano uno sia qua dove faremo la maglia rasata se volete andare aumentare il numero di maglie è semplicissimo lo vedrete adesso con me durante il tutorial lavoreremo insieme questo qua bordeaux per quanto riguarda questo panna la microfibra è la microfibra baci rubati della mistrico filati che ho acquistato sul sito unfilodipassione.it trovate tutti i link di riferimento al filato e gli accessori nelle info box di questo video tutorial bene detto questo io vi lascio subito al materiale che è la microfibra monnalisa in questo caso e alla lavorazione passo passo quindi seguirò con voi tutto il tutorial per mostrarvi soprattutto quanto è semplice realizzare questi mezzi guanti spero che questo progettino semplice veloce alla portata di tutti vi piaccia se è così lasciatemi un like e vi aspetto sul mio canale per le prossime novità i link di riferimento al mio gruppo facebook allo shop online unfilodipassione.it e al filato che vi presento in questo video li trovate chiaramente nelle info box di questo tutorial ciao a tutti e a presto vediamo subito il protagonista di questo progetto come già vi ho annunciato nell'altro tutorial io ho scelto di lavorare nuovamente con il filato monnalisa della mistrico filati acquistato sul sito unfilodipassione.it questo è un filato 100% microfibra ogni gomitolino misura 50 grammi e corrispondono all'incirca a 100 metri quindi ha un'ottima resa uno spessore abbastanza ritorto quindi non è sottilissimo e poi consigliato sull'etichetta di lavorarlo con ferri o uncinetto da 6 o 6,5 mm i ferri che ho scelto di utilizzare sono i ferri da 5 mm perché volevo una consistenza un pochino più fitta nella lavorazione in modo da avere un elasticità maggiore nel punto vedete è molto elastico proprio perché si tratta di una fascia per capelli sia in altezza quindi questa sia in larghezza quindi è veramente molto elastico lavoreremo qualche centimetro inferiore rispetto a quella che è la nostra circonferenza testa e lavoreremo con i ferri da 5 mm io userò i circolari ma si lavora con i ferri lineari perché lavoreremo in lineare avremo bisogno poi per fare l'intreccio di un ferro auxiliario per andare a mettere in sospeso le maglie se non avete un ferro auxiliario è possibilissimo vuoi aiutarci o con un uncinetto da 5 mm o da 4 mm indifferente e metteremo in sospeso le maniche e marca punti ci serviranno per questo progetto almeno due le forbici per tagliare il filo un ago dall'ana per andare a fare la cucitura e riprendere i fili per andare a nasconderli un metro per andare a misurare la nostra circonferenza bene detto questo i grammi che ci serviranno sono 100 grammi di filato non so se ve l'ho già detto ve lo ripeto mettiamoci subito al lavoro la prima cosa da fare andare a misurare la nostra circonferenza della testa da sotto la nuca a sopra la fronte quindi proprio in questo modo andare a prendere la misura io ho bisogno di 54 cm ma so che il filato nella lavorazione risulterà elastico quindi la lavorazione sarà molto elastica quindi lavorerò su 50 cm andrò a scartare circa 4 cm per non avere una misura poi troppo abbondante quindi io lavorerò i primi 25 cm di fascia poi farò l'intreccio e poi lavorerò i successivi 25 cm poi andremo a cucire bene vediamo come cominciare per avviare il mio lavoro come altezza ho scelto di non non fare un'altezza troppo ampia quindi io resterò su 88 8,5 cm quindi come spessore sulla parte del della testa prendiamo i nostri ferri e andiamo a montare 20 maglie di 20 maglie nel mio caso corrispondono a circa 88,5 cm per valutare la misura del filo questo non ne abbiamo mai parlato è possibile fare in questo modo quando dobbiamo calcolare la nostra codina facciamo 3 o 4 giri sopra il ferro in questo modo in modo da avere un pochino di filato poi per andare a cucire le parti finali e adesso dopo aver fatto 3 4 5 5 giri con il filato possiamo tranquillamente andare a fare 20 volte 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20 questa è la misura di filo che ci occorre per l'avvio quindi da dove sono lavoro il mio cappietto e comincia a montar su 20 maglie e montate 20 maglie sui ferri vedete questo è l'avanzo del filo che mi servirà giusto per andare poi a cucire la parte sotto della fascia cominciamo a lavorare il primo ferro andando a passare una maglia dritto la maglia rovescio quindi lavoriamo la costa 11 passiamo la prima maglia a dritto filo sopra il ferro la maglia successiva la prendiamo in questo modo da sotto e la passiamo a rovescio e la facciamo vedere la terza maglia la prendiamo a dritto entrando sotto all'altro ferro gettiamo il filo e facciamo cadere la maglia la successiva la passiamo a rovescio di nuovo dritto e un rovescio per tutte le maglie che abbiamo sul ferro e l'ultima maglia la passiamo a rovescio per come si presenta per la nostra lavorazione questo è il primo ferro voltiamo in lavoro il secondo ferro e quella su da seguire si lavorano tutti allo stesso modo su questo ferro andiamo a passare tutte le maglie per come si presentano dritto con dritto rovescio con rovescio la prima si presenta dritto la passiamo a dritto filo fino alla fine del ferro io non ho contato quanti ferri ho lavorato per arrivare a centimetri che mi occorrono quindi ho lavorato in base ai centimetri e non al numero di ferri perché comunque devo lavorare 20 centimetri 25 centimetri e 25 centimetri quindi ho lavorato una serie di ferri quando mi sono accorta che ero vicino alla misura ho preso il metro ho verificato e mi sono fermata a 25 centimetri quindi procediamo in questo modo una maglia dritto una maglia rovescio una maglia dritto e una maglia rovescio tutti i ferri successivi si lavorano così dritto con dritto rovescio con rovescio lavoriamo tutti a costa uno ho terminato di lavorare la metà della mia circonferenza quindi della misura che mi occorre vi do centimetri vi ripeto ho lavorato qualche centimetro in meno perché vedete prima si vedeva un pochino male ma adesso si nota che è molto elasticizzato il tessuto quindi non voglio andare a rischiare che sia poi largo il lavoro alla fine quindi se io ho bisogno di 54 centimetri di circonferenza ho lavorato esattamente 25 centimetri quindi ho lavorato praticamente sto lavorando su quattro centimetri meno rispetto a quella che è la mia circonferenza e va benissimo perché il filato è elasticizzato questo è il mio lavoro vedete il lavoro è pulito non abbiamo né dritto né rovescio perché lavorando così a costa uno è possibilissimo portare la fascia o in questo modo in questo lato oppure nell'altro lato quindi non abbiamo differenza nella lavorazione e non avremo differenza neppure adesso che andremo a fare questo intreccio che resterà sulla parte centrale per lavorare l'intreccio adesso avremo bisogno o del ferro ausiliario che sono questi qua con questa forma concava all'interno dove sospendere le maglie oppure va benissimo anche un uncinetto quindi se non avete il ferro anche adesso lo farò con l'uncinetto in modo da mostrarvi come si vanno a sospendere se non avete il ferro ausiliario allora noi abbiamo qua le nostre 20 maglie noi andremo ad intrecciare tranne la prima e l'ultima maglia tutte le altre maglie che rimangono al centro però abbiamo lavorato la costa 1 a 1 quindi se io dovessi dividere esattamente 10 maglie e le altre 10 quando arrivo qua e devo intrecciare avrei un dritto perché la prima va passata a dritto e un altro dritto da lavorare allora che cosa andiamo a fare sospendiamo le prime 10 maglie del ferro anziché 9 e poi andiamo ad intrecciare con le altre 9 maglie con le altre 8 maglie più l'ultima quindi 9 totali vediamo come la prima maglia la passiamo a dritto e quest'anno non andiamo ad intrecciare e la lasciamo qua sul ferro in questo modo adesso prendiamo l'uncinetto e andiamo a togliere proprio a sfilare dal ferro 2 4 6 8 10 maglie perché la prima maglia che io devo andare a lavorare deve essere a rovescio anziché a dritto altrimenti poi ho una discordanza nella lavorazione della corsa 1 1 quindi vado a sfilare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 maglie l'intreccio lo possiamo fare o destro o sinistro in base a dove lasciamo le maglie in sospeso quindi o davanti o dietro al lavoro è indifferente in questo caso perché comunque la treccia non avrà né dritto né rovescio quindi possiamo fare come vogliamo va proprio a gusto io le lascerò in sospeso dietro ai ferri in questo modo qua adesso vado a lavorare tutte le maglie che ho sul ferro quindi queste 8 maglie quattro anni l'ultima perché abbiamo detto la prima e l'ultima non la lavoriamo e le vado a passare normalmente per come si presentano con il ferro di sinì di destra le maglie anche quelle che ho lasciato in sospeso cerco di avvicinarle il più possibile all'altro ferro in modo da non andare a creare dei fori in questo punto qua perché sono diverse maglie potrei andare a creare un foro nella lavorazione quindi la prima maglia è stata passata a dritto adesso la maglia che devo lavorare mi si presenta rovescio quindi filo davanti ai ferri prendiamo la prima maglia facciamo un punto molto stretto proprio per non creare fuori e lo andiamo a passare a rovescio la successiva si presenta dritto e la passiamo a dritto rovescio dritto rovescio e l'ultima a dritto l'ultima maglia al momento non la lavoriamo adesso prendiamo le maglie che abbiamo in sospeso le portiamo vicino al ferro di destra in questo modo e le andiamo a lavorare tutte per come si presentano allora vediamolo un attimo bene la prima è stata passata a dritto quindi la seconda maglia è la maglia a rovescio della costa 1 quindi filo sopra i ferri prendiamo la prima maglia e la passiamo a rovescio e la facciamo cadere dal ferro sto lavorando molto strinto in modo vi ripeto da non creare dei fori perché è possibile avendo sospeso abbastanza maglia quindi cerchiamo di fare questo ferro molto teso la successiva a dritto per come si presenta la maglia dopo a rovescio e così via per tutte le maglie che abbiamo sospeso sul nostro ferro o comunque sull'uncinetto quella ancora dopo la passiamo a dritto fino a raggiungere l'ultima maglia da lavorare sul ferro ausiliario quindi un dritto e rovescio per tutta questa lavorazione dritto lo lascio dritto e rovescio l'ultima maglia la passiamo a dritto per come si presenta ok adesso possiamo lasciare il nostro uncinetto o il ferro ausiliario perché comunque abbiamo terminato la la treccia prendiamo l'ultima maglia che dobbiamo andare a passare si presenta al ragazzo e la passiamo a rovescio in questo modo abbiamo ripreso le maglie sempre incostano uno senza andare a creare differenze nel nella lavorazione quindi fatto questo che questo il nostro nodo che avremo nella parte centrale della fronte voltiamo il lavoro questo è l'intreccio come si presenta sul rovescio quindi non abbiamo differenze nella lavorazione adesso ricominciamo quello possono uno normalmente per tutte le maglie lavorando un dritto un rovescio un dritto e così via per tutte le maglie che abbiamo sul ferro quindi dritto rovescio dritto e e l'ultima ma passiamo al rovescio terminato il ferro successivo all'intreccio voltiamo il lavoro e ricominciamo quella possono uno per altri 25 centimetri quindi per la lunghezza che ci rimane l'altra metà della circonferenza che dobbiamo lavorare per la testa quindi adesso ricominciamo dritto rovescio dritto e così via per tutte le maglie volta raggiunti i 25 centimetri di lunghezza mi ricollegherò con voi e vi mostrerò come andare a fare la cucitura quindi questo è l'unico intreccio che faremo sulla nostra fascia adesso continuiamo per altri 25 centimetri o la misura che ci occorre per raggiungere la circonferenza in base a quanto avete lavorato nella prima parte e ci rivediamo per la cucitura ecco mi ho terminato di lavorare anche l'altro lato quindi sono andate a ripetere altri 25 25 centimetri di maglie costano 1 andiamo a sovrapporre i dati e vedremo che il nostro intreccio cadrà perfettamente al centro della lavorazione adesso andiamo a chiudere tutte le maglie per fare la chiusura delle maglie voltiamo il lavoro e andiamo a passare le maglie per come si presentano andando a fare delle accavallate semplici quindi le lavoreremo dritto con dritto e rovescio con rovescio andando ad accavallarle la prima maglia si presenta a dritto la passiamo a dritto la successiva la passiamo a rovescio adesso prendiamo la maglia che abbiamo appena lavorato e la andiamo ad accavallare a questa qua in questo modo passiamo la maglia dritto e la cavalliamo con la precedente un rovescio e la cavalliamo continuiamo fino alla fine delle nostre moglie sono all'ultima maglia chiediamola insieme da lavoro a rovescio per come si presenta e adesso prendono maglia precedente e la cavallo all'ultima lavorata tagliamo il filo questa codina la passiamo dentro la sola e chiudiamo facciamo proprio un bel nodo in questo modo ok adesso che abbiamo chiuso il lavoro io all'inizio ho lasciato un pezzo di filo proprio per andare a cucire quindi prendiamo l'ago da lana e andiamo ad unire le due parti se abbiamo un lato che ci piace di più come lavorazione scegliamolo in modo da andare a fare una cucitura sulla parte che riteniamo migliore della nostra lavorazione tanto vi ripeto è indifferente non abbiamo né dritto e nel rovescio perché le parti sono identiche io la chiuderò adesso in questo modo vi faccio vedere questo sarà il dritto del mio lavoro quindi la porto sul rovescio quello che sarà dentro alla cucitura e vado ad unire le maglie come faccio semplicemente in questo modo qua la prima maglia che ho lavorato passo il filo dentro la maglia in modo da chiudere bene l'inizio del lavoro qua ho la maglia che ho chiuso la prendo nel nodino questo qua vedete questo nodino qualche alla maglia l'ultima che è stata lavorata e faccio un punto semplice semplicemente così adesso passo nella maglia successiva ma prendo in questo modo e vado a fare un altro punto sull'altro lato e aggancio tutte le maglie semplicemente così proprio una chiusura semplicissima e anche meno visibile possibile perché in questo modo parte che resterà dietro alla nuca però in questo modo comunque si noterà anche pochissimo eccola la cucitura continuiamo in questo modo per tutte le maglie ecco qua ho terminato di fare la cucitura una volta terminato questa è la parte che resterà all'interno quindi della lavorazione infatti vi ho detto scegliamo un lato io ho scelto l'altro lato come il lato a dritto perché su questo lato ecco qua si nota e non si nota però un'aggiunta di filo e ho preferito farla rimanere all'interno della lavorazione si nota veramente poco però ho preferito che mi rimanesse all'interno questa è l'elasticità che abbiamo ottenuto dalla nostra lavorazione vediamo la fascia a dritto eccola qua una cosa molto semplice velocissima da realizzare è indicatissima per fare un regalo anche per farci un regalo perché veramente basta un'ora per lavorare una fascia come questa volendo possibile andare a riprendere le maglie dei bordi con l'uncinetto comunque rimontarle sui ferri io non lo farò perché mi piace proprio il bordino della maglia così come è stata lavorata mi piace sia sul lato che sull'altro la lascerò così devo valutare un attimo sicuramente l'avrete visto nella presentazione se andare ad applicare magari qualche decorazione qua nella parte del dell'intreccio con uno strass o qualcosa qua come rifinitura finale della lavorazione questo è il risultato adesso dedichiamoci alla lavorazione dei mezzi guanti eccoci pronti a cominciare la lavorazione dei guanti io ho già avviato perché la prima parte del guanto sarà lavorata a costa 1 a 1 per 10 ferri così come abbiamo fatto per la fascia quindi non vi sto a far rivedere ho montato le maglie sui ferri ho lavorato 10 ferri a costa 1 a 1 la stessa cosa vado a ripetere per l'altro guanto questo è quello che ho già lavorato eccolo qua vi mostro un attimo che cos'è che andremo a fare andremo a lavorare i guanti in questo modo ora la misura del guanto io vi dico le maglie che ho montato come base quindi di partenza poi comunque il filato vedete è molto elastico quindi vi consiglio di lavorare su un centimetro due in meno rispetto a quella che è la vostra circonferenza o del polso o se volete fare come me andare un pochino più in alto perché io sono arrivata a questo punto qua quindi diciamo che sono in prossimità sotto al gomito quindi ho lavorato adesso vi do i centimetri prima del pollice almeno 15 centimetri compreso il bordo iniziale perché volevo un guantino più grande lavoreremo i primi 10 ferri a costa 1 a 1 e poi proseguiremo a dritto senza fare aumenti né diminuzioni fino a raggiungere i centimetri in cui vogliamo iniziare a fare gli aumenti per il pollice quindi questo punto qua ok quando arriviamo a questo punto qua che faremo questi aumenti cominceremo a lavorare al centro degli aumenti sul lato e sull'altro per dare la forma del pollice poi metteremo le maglie del pollice in sospeso e continueremo andando a chiudere qua la circonferenza sempre durante la lavorazione a lavorare la parte che sarà poi sopra alle altre dita della mano e termineremo con tre ferri a costa 1 a 1 si lavora tutto con i ferri da 5 mm lavoriamo in lineare infatti vedete il progetto è aperto aspettavo di fare il tutorial per la cucitura quindi non so cuceremo insieme questo o questo che adesso vado a realizzare perché terminato il primo ne va ripetuto un altro identico vi garantisco il lavoro è semplicissimo molto veloce e anche molto facile perché non faremo nessun tipo di punto particolare ma semplicemente costa 1 a 1 e maglia rasata allora io ho avviato 28 maglie perché per la mia circonferenza del polso sono sufficienti cioè del polso del sotto al gomito quindi la parte del dell'avambraccio quindi quella sotto al gomito un pochino più ampia misurate la vostra circonferenza considerate che vi ripeto il filato il punto sono elastici quindi non esagerate con i centimetri altrimenti poi rischiate che sia troppo largo se volete fare come me io ho montato 28 maglie ho lavorato i primi 10 ferri a costa 1 a 1 terminato il decimo ferro cominciamo a passare tutte le maglie dell'undicesimo ferro a dritto senza lavorare il vivagno quindi non lo lavoreremo non non è importante perché comunque poi andremo a uscire le maglie e nella parte laterale quindi faremo una cucitura molto invisibile terminato il primo ferro a dritto andiamo a lavorare la maglia rasata quindi gireremo il lavoro e cominceremo il ferro successivo al rovescio per un'altezza totale compreso il polsino se volete lavorare come me di circa 15 centimetri adesso vi ridò la misura esatta altrimenti potete farlo un pochino più corto più lungo a seconda di come è il vostro gusto io volevo un guanto un pochino più più alto sul braccio rispetto ai mezzi guanti che partono proprio da da qua dal polso quindi sono andata a salire però questo è a gusto quindi se volete fare un guanto più piccolo che parte dal polso considerate che saranno sufficienti pochissimi ferri a maglia rasata per raggiungere poi la posizione del pollice dove faremo gli aumenti terminato il primo ferro voltiamo il lavoro e facciamo il ferro di ritorno tutto a rovescio quindi andiamo a fare proprio un ferro a dritto un ferro a rovescio io continuo in questo modo fino all'altezza che ho lavorato per l'altro guanto e poi mi ricollego con voi per farvi vedere come andare a fare gli aumenti per fare gli aumenti se volete aiutarvi con un con i marca punti tenete a disposizione due marker in modo da assegnare la maglia dove iniziare a fare gli aumenti per una serie di giri quindi tenete magari a portata di mano 22 marca punti vedo alla misura così poi continuo con la lavorazione e se volete fare come me dal polsino fino al punto in cui iniziato con gli aumenti ho lavorato esattamente 15 centimetri quindi il polsino di 10 ferri nel mio caso corrisponde a circa 6 centimetri 5,5 centimetri dal polsino sono a 10 centimetri per un totale di 15 ci vediamo raggiunta l'altezza che vogliamo del nostro guanto eccomi qua ho terminato l'altezza quindi ho raggiunto i miei 15 centimetri dal polsino fino a qua io adesso inizierò a fare degli aumenti per andare ad aumentare per la misura del pollice qua dove si allarga la mano lo farò al centro se vi torna più utile tenete a portata di mano due marca punti perché così non rischiate di andare a fare l'aumento nel punto sbagliato insieme al marca punto sono forse dimenticata nella nei materiali tenete a portata di mano anche una spilla da balia di queste qua un pochino più grandi perché sospenderemo poi le maglie per il pollice allora procediamo in questo modo abbiamo le nostre 20 maglie e scusatemi 28 maglie lavoriamo le le prime quattro delle prime 13 maglie e poi facciamo un aumento quindi sul ferro a dritto cominciamo passando le maglie a dritto le prime 13 adesso qua abbiamo la quattordicesima maglia che è la maglia praticamente centrale qua sotto nella maglia vedete abbiamo questa asolina qua andiamo a fare un aumento con questa maglia qua l'asola proprio che rimane sotto alla maglia la prendiamo in questo modo così e la portiamo sul ferro girata quindi ritorta così adesso la prendiamo e la passiamo a dritto prima di fare questo passaggio se volete ricordarvi il punto esatto in cui iniziare gli aumenti prendete un marca punto lo mettete alla tredicesima maglia perché da qui in poi faremo sempre degli aumenti prendiamo la maglia quella che abbiamo portato adesso sul ferro la passiamo a dritto lavoriamo le successive due maglie una e due prendiamo l'asolina nello stesso modo di questa maglia qua successiva e la portiamo ritorta sopra al ferro di sinistra la prendiamo e la passiamo a dritto e abbiamo praticamente qua dal dalla tredicesima maglia una due tre e quattro maglie in più adesso prendiamo un altro marca punto e lo posizioniamo qua e qua è la fine dei nostri aumenti quindi gli aumenti li facciamo su queste quattro maglie continuiamo adesso le successive tredici maglie tutte a dritto fino alla fine del ferro adesso voltiamo e passiamo tutte le maglie a rovescio normalmente quindi facciamo il ferro di ritorno lavorando tutte le maglie per come si presentano comprese chiaramente le maglie dove abbiamo fatto gli aumenti quindi filo davanti sopra ai ferri in questo modo e passiamo tutto a rovescio alla fine del ferro rovescio voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere l'aumento io ho lavorato fino a un totale di 40 maglie quindi su queste maglie qua che adesso vi faccio vedere come fare l'aumento lo facciamo come il primo giro che abbiamo lavorato adesso insieme ho raggiunto 12 maglie in più e sono sufficienti per la misura del mio pollice se avete bisogno di fare qualche aumento in più valutate anche voi sulla misura della vostra mano passiamo le prime tredici maglie fino al marca punto non ha importanza adesso contarle perché abbiamo messo un marcatore quindi passiamo tutte le maglie fino al marcatore a dritto che devono essere comunque 13 sempre fino alla fine degli aumenti sono al marcatore lo sposto sul ferro di destra prendo l'asolina della prima maglia che ho dopo il marca punto e faccio un aumento portando la ritorta in questo modo sul ferro di sinistra prendo e la passo a dritto quindi non avrò più quattro maglie su questo giro ma ben sei passo le successive maglie a dritto e l'ultima lavoro con un aumento sono all'altro marca punto lavoro la maglia a dritto così il marca punto lo tolgo un attimo la prima delle tredici maglie la lavoro con aumento facendo questo passaggio della maglia ritorta sul ferro di sinistra lavoro questo aumento a dritto posiziono di nuovo il marca punto e continuo con le ultime tredici maglie del ferro a dritto noi dobbiamo avere prima dell'aumento e dopo l'ultimo aumento sempre tredici maglie gli aumenti che andiamo a fare per il pollice dipendono chiaramente anche dalla nostra mano considerate ricordate sempre che questo punto lavorato con i ferri da 5 su questo filato che già di per sé è leggermente elasticizzato e questo punto rende tutto molto più elastico quindi non esagerate con gli aumenti perché comunque resterà poi molto più elastico il il lavoro terminato anche questo ferro voltiamo facciamo il ferro di ritorno tutto a rovescio il ferro successivo a dritto ripetiamo gli aumenti in questo modo fino ad avere un totale di maglie sul ferro di 40 maglie se volete fare la circonferenza mia altrimenti continuate con gli aumenti così come vi ho appena mostrato avrò poi alla fine del lavoro qua 12 maglie in più per il pollice ci vediamo alla fine degli aumenti ho terminato di lavorare gli aumenti io ho 40 maglie sul ferro 13 sulla sinistra 13 sulla destra e qua al centro ho aumentato di 12 maglie quindi per me sono sufficienti io mi fermerò qua con gli aumenti se dovete procedere procedete e alla fine degli aumenti continuate in questo modo facciamo dopo il giro d'aumenti tutto il ferro di ritorno a rovescio sul ferro successivo a dritto dobbiamo togliere dal ferro tutte le maglie che abbiamo fatto in più per il pollice quindi io nel mio caso 12 maglie le andrò a mettere in sospeso su una spilla da balia di quelle che si chiudono in modo da tenerle bloccate durante il seguito della lavorazione allora facciamo tutte le prime 13 maglie a dritto 13 o comunque quante ne avete montate voi per la vostra misura il marca punto posso toglierlo perché adesso non mi occorre facciamo lo facciamo dopo facciamo prima la sospensione delle maglie quindi a questo punto tutte le maglie che ho qua fino all'altro marca punto le vado a sospendere dal ferro le tolgo proprio e le riprendo successivamente le lascio su una spilla in modo che rimangano bloccate magari con un ferro ausiliario c'è la possibilità che escano dal ferro perché adesso continueremo con la lavorazione del guanto quindi io preferisco andare a sospenderle e chiuderle in modo da non perdere nessuna maglia chiudo la spilla e le lascio proprio così sospese tolgo l'altro marca punto non mi occorre più prima di lavorare le successive maglie vado a fare due maglie in più sul ferro le maglie in più si fanno io le faccio in questo modo penso che portiamo uno prendiamo il filo lo giriamo così e lo buttiamo sul ferro aumentiamo di due maglie queste ci serviranno per il movimento nella parte interna poi del pollice adesso procedo lavorando tutte le successive maglie a dritto quindi vado a passare tutte 13 le 13 maglie normalmente a diritto una ok 13 l'ultima maglia la passiamo al dritto adesso facciamo tutto il ferro di ritorno andando a lavorare anche le due maglie gettate e abbiamo fatto adesso per ritornare in pari perché se adesso andiamo a contare avremo nuovamente sul ferro 28 maglie lavorato tutto il ferro di ritorno a rovescio voltiamo il lavoro e adesso andiamo ad aumentare il guanto nella parte che arriverà fino a sopra la mano allora io ne ho fatto anche dei giri con la costa 1 a 1 quindi mi sono segnata ho lavorato allora fino a 40 centivo ho lavorato 6 ferri a maglia rasata quindi adesso cominciamo il primo a dritto il secondo a rovescio per un totale di 6 ferri quindi ci fermiamo con il ferro di rovescio dritto e il successivo a rovescio e così via terminato il ferro a dritto voltiamo il lavoro facciamo il ferro di ritorno a rovescio ci rivediamo alla fine dei 6 ferri a maglia rasata ho terminato i 6 ferri a maglia rasata adesso gli ultimi 3 ferri della lavorazione li vado a passare a costa 1 a 1 come abbiamo fatto per il polsino iniziale se dovete aumentare un po' perché volete un guantino più lungo sulle dita continuate con qualche altro ferro e poi gli ultimi 3 a costa 1 a 1 quindi una maglia a dritto e la successiva a rovescio sono sul ferro a dritto io chiaramente il sesto ferro era quello a rovescio una maglia a dritto una maglia a rovescio il ferro successivo si lavora allo stesso modo quindi un dritto a rovescio un totale di 3 ferri ci rivediamo per chiudere insieme al lavoro quindi continuiamo con la costa 1 a 1 e riprendere le maglie sul pollice ho lavorato i 3 ferri a costa 1 a 1 adesso andiamo a chiudere insieme la chiusura la facciamo con accavallata semplice ma le maglie le passiamo per come si presentano quindi lavoriamo dritto e rovescio e andiamo ad accavallare la prima maglia si presenta sul rovescio siamo sul rovescio del lavoro e si presenta sul dritto scusatemi la passiamo al dritto la maglia successiva la lavoriamo sul rovescio come per lavorare la costa adesso prendiamo la prima maglia e la andiamo ad accavallare a quella che abbiamo appena lavorato dritto prendiamo la maglia precedente e la cavalliamo semplicemente rovescio passiamole tutte per come si presentano quindi dritto con dritto rovescio con rovescio accavalliamo anche l'ultima maglia chiaramente stringiamo bene togliamo il ferro e lasciamo un bel pezzo di filato per andare poi anche a cucire il nostro guanto quindi prendiamo proprio un bel pezzo di filo per fare la cucitura prendiamo il filo che abbiamo tagliato lo passiamo attraverso all'ultima asola e andiamo a stringere con un bel nodo per bloccare il nostro lavoro tiriamo ecco qua questo è il risultato della nostra lavorazione adesso facciamo il pollice qua abbiamo le maglie sospese sopra alla spilla per riprendere la lavorazione noi dobbiamo andare a terminare il primo giro che è questo di maglia dritto perché non lo abbiamo lavorato giusto? abbiamo sfilato le maglie senza passarle allora prendiamo il ferro e andiamo a ripassare tutte le maglie sopra i ferri in questo modo cercando di non perderle le sfiliamo e le mettiamo sopra il ferro tutte girate sul dritto del lavoro ecco qua andiamo a contarle controlliamo di averle sfilate giuste quindi 2 4 6 8 10 12 maglie ok io devo terminare il ferro a dritto quindi facciamo così prendiamo il filo e ci andiamo a riagganciare alla lavorazione io mi riaggancio in questo modo facciamo un cappietto come per iniziare proprio il ferro nuovo e lo posizioniamo sul ferro dove abbiamo messo le maglie stringiamo ok e abbiamo una maglia in più adesso andiamo a chiudere subito insieme all'altra maglia cominciamo in questa maniera qua dobbiamo lavorare tutto il dritto per tutte le maglie la prima maglia la prendiamo insieme alla maglia successiva quindi le lavoriamo insieme perché abbiamo fatto un aumento e lo andiamo a chiudere subito in questo modo abbiamo agganciato il filo e abbiamo già eliminato la maglia in più tiriamo bene ok e adesso continuiamo lavoriamo tutte le maglie a dritto 1 terminato il primo ferro a dritto andiamo a procedere con la maglia rasata io ho lavorato in totale quattro ferri perché per me l'altezza giusta se volete un'altezza del pollice un pochino più ampia lavorate anche un paio di ferri in più quindi adesso voltiamo e continuiamo su queste maglie la cosa la maglia rasata quindi un ferro a dritto un ferro a rovescio per quattro ferri questo è il primo ci rivediamo sul quarto ferro terminati quattro ferri a maglia rasata facciamo due ferri accostano a uno e poi chiudiamo nello stesso modo in cui abbiamo chiuso il guanto quindi con accavallata semplice passando le maglie una dritto nel rovescio e facendolo accavallata questo è il primo io lavorerò solamente due ferri accostano a uno perché come altezza per me è sufficiente quindi va benissimo e poi chiuderò anche il pollice ci rivediamo per andare a cucire il guanto a più tardi ho fatto la chiusura delle maglie con accavallata semplice incostano a uno adesso tagliamo un pezzettino di filo che ci servirà per andare a cucire quindi un pezzettino un pochino più abbondante tagliamo e lo passiamo nell'ultima sola così come abbiamo fatto per il guanto nella parte della mano tiriamo un bernodino ok a questo punto il nostro guanto è pronto lavoriamo non altro identico io avete visto l'ho già lavorato il successo di un altro guanto e una volta terminati li andiamo a cucire per fare la cuscitura la cucitura la facciamo andando a tenere il guanto dritto con dritto quindi facciamo combaciare la parte a dritto con l'altra parte a dritto in questo modo il pollice lo possiamo cucire anche successivamente prendiamo lago andiamo a fare una cucitura semplicissima lungo tutta la parte laterale del guanto poi la parte del pollice andrà ripetuta allo stesso modo quindi metteremo il guanto a dritto faremo combaciare il dritto con il dritto e andremo a cucire tutta questa parte qua vi faccio vedere come si fa la cucitura e poi il guanto sarà terminato allora questo è l'ultimo punto dove ho il nodino quindi la maglia che ho appena sganciato qua invece alla prima maglia che ho chiuso entro nella prima maglia e faccio passare il filo ecco scusate questi dopo gli strass sicuramente sono una decorazione che andrò a fare nella farò insieme a voi vi farò vedere la mia intenzione prendiamo la maglia successiva tornando dall'altro lato e facciamo un altro punto scomodo adesso la cucitura che vado a fare io è molto simile alla cucitura sartoriale perché andrò a prendere le maglie saltandone una facendo un punto poi tornerò nella maglia che ho saltato e farò un altro punto però ecco potete liberissime di andare a cucirlo prendendo sempre tutti i nodini uno per uno prima da un lato e poi dall'altro quindi questo va proprio come siate più abituate a fare l'importante ecco andare a cucire bene il nostro guanto in modo che non ci siano fuori nella lavorazione una volta indossato quindi le maglie vanno comunque uscite tutte quante ok adesso procedo nello stesso identico modo vado a cucire anche il guanto e lei il pollice scusatemi il pollice dove abbiamo fatto le due maglie in più che sono queste che hanno creato questo foro che ci permetterà poi il movimento una volta cuscito il il guanto quindi sul rovescio del lavoro qui siamo sul sul rovescio lo riposizioniamo sul dritto il pollice lo prendiamo in questo modo lo uniamo e andiamo a cucire tutte le maglie del pollice nello stesso nella stessa maniera che facciamo adesso e cuciamo anche questo punto qua dove abbiamo queste maglie che abbiamo lasciato in più quindi facciamo tutta la cucitura e tutta la cucitura del guanto terminato questo il guanto è finito andiamo a cucire anche l'altro guantino e poi a fare delle delle decorazioni se vogliamo io penso proprio che anche sulla fascia per capelli andrò ad applicare degli strass e mi ricolleggerò con voi e vi dirò che cosa ho intenzione di fare ci vediamo fra poco ho terminato le cuciture e le decorazioni ho lasciato qualche strass ad applicare perché voglio mostrarvi come sono andata a fissarli ho scelto di applicarli nella parte della cucitura quindi quella laterale del guanto ho scelto di fare tutto questo bordo sia su un guanto che sull'altro guanto con tutti questi strass e sono andata praticamente a cucirli proprio all'interno della cucitura gli ultimi 3 non li ho ancora fissati vi mostro come faccio per fissarli sono delle strisce intere quindi questi rimangono già così però vedete che nella parte esterna hanno queste graffettine che io invece voglio andare a nascondere così come ho fatto per tutti questi altri ho cercato di nasconderli il più possibile lo faccio in questo modo con ago e filo chiaramente il filo della stessa tonalità del guanto entro da dentro per fare la cucitura e sono andata a prendere la costina della maglia laterale che mi resta praticamente vicino allo strass quindi in questo modo ho scelto chiaramente un filo tono su tono lago si può usare o questo per la lana anche quello sottile non fa proprio differenza tanto si cuce bene anche con questo sono passata fra uno strass e l'altro proprio nella parte superiore e vado a prendere vedete proprio la costina della maglia quella che mi rimane al di fuori della cucitura facendo così io vado a tirare il tessuto la lavorazione in modo che mi vada a bloccare sia lo strass e che mi dia la possibilità di rendere invisibile queste graffette che sono laterali quindi se avete anche voi degli strass fatti così che hanno questa graffettina qua che si vede che andrebbe incastrata ma in questo caso non riesco a farlo possiamo fare in questo modo andare a prendere proprio le costine laterali alla cucitura andare a tendere un pochino e andare a nascondere queste graffettine qua quindi io l'ho applicati in questo modo manca l'ultimo lo facciamo insieme vado proprio nella maglia prendo un pochino di filato di lavoro e poi passo nel mezzo agli strass in questo modo e cerco di nascondere vedete vedete in questo modo la graffettina non si nota o comunque si nota veramente molto poco una volta indossato non si nota assolutamente io ho scelto di fare questo bordo un attimo che chiudo il punto sia sopra ai guanti nella parte laterale dove siamo andate a cucire sia sopra la fascia per capelli quindi al centro della fascia vi mostro adesso come sono andata ad applicare questi strass nello stesso modo cercando di dare una di fare un motivo sopra qua nella parte centrale della fascia vedete mi piace moltissimo la trovo davvero sfiziosa ecco diciamo così e niente questo è il progetto che vi propongo con i grammi di filato che mi sono rimasti dal progetto maxistola e basco non ho terminato il filo questi sono i grammi che mi rimangono quindi di 100 grammi che avevo disponibili vi dico subito quanti grammi sono rimasti mi sono rimasti circa 10 grammi quindi se volete andare a fare un guanto più grande o una misura un pochino più più lunga di quella che ho fatto io che vi propongo in questo tutorial è possibilissimo perché il filato se avete 100 grammi di filato vi basteranno saranno sufficienti per la realizzazione di questo progetto bene io spero che questo progettino vi piaccia che vogliate realizzarlo fatemi sapere che cosa ne pensate e se lo realizzate vi aspetto nel mio gruppo facebook per le foto del vostro progetto terminato vi ricordo il filato il filato monnalisa in microfibra in filodipassione.it lo trovate nel nel link che vi lascio di riferimento nelle info box di questo video e vi mando un bacio grandissimo ciao a tutti a presto ciao